Ciao Sono una fisica, laureata magistrale in astrofisica a Padova E lavoro in Irlanda come ingegnere elettronico Sono una neo laureata in chimica con indirizzo in organico e chimico fisico dell'Università La Sapienza di Roma E sono una studentessa magistrale in fisica della materia a Firenze Studio fisica alla sapienza e sulle mie pagine social SciScience racconto del mio percorso universitario E frequento il quinto anno di liceo classico nella città di Trieste Sono al terzo anno di scienze biologiche Sono una biologa E sono una dietista E sono laureata in biotecnologie presso l'Università di Roma Torvergata E frequento il secondo anno di ingegneria fisica E sono una studentessa al primo anno di ingegneria informatica Sono laureata in scienze ambientali e in biotecnologie E faccio il dottorato di ricerca in ingegneria informatica a un artista all'Università di Boston E sono laureata in biotecnologie presso l'Università di Roma Torvergata Sono una biologa, una borsista di ricerca e una futura embriologa Ciao sono Sara, ambassador di Genest, laureata in tecnica di laboratorio biomedico E' attualmente iscritta a un master in comunicazione scientifica Ciao sono Virginia, in arte quantum girl e sono ambassador di Generazione STEM Un progetto in cui vi staremo vicini e vi presenteremo il mondo delle STEM a 360 gradi Genest nasce con l'obiettivo di scardinare il falso mito che la scienza non sia da tale donna In realtà lo è, è il monesimo esempio Un mondo per troppo tempo considerato complesso, formale e soprattutto associato al mondo maschile Sei dei nostri? Seguici su Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn Ciao!